Location giusta davanti allo stadio, uno stadio storico, il grande Torino. Per parlare di sport, benessere, salute, dovete segnarvi questo prefisso del benessere, segnatelo anche tu mentalmente. Zero, cinque, trenta, cosa vuol dire? Zero sigarette, cinque porzioni di frutta e verdura che fanno bene al giorno e trenta vuol dire trenta minuti di corsa o di camminata al giorno che allunga la vita, mi raccomando, zero, cinque, trenta, vai, corri, corri, fa chi corsa, corri!